Ragazzi oggi andiamo dritti al punto, siamo già a casa del nostro cliente, abbiamo tirato via tutti i prodotti che c'erano prima, che dopo vedrete a fine video che vi faccio vedere cosa abbiamo ritirato e siamo pronti al montaggio. La situazione di partenza è questa, siamo già tra l'altro posizionati molto bene, sarà un montaggio piuttosto facile, speriamo che vada tutto bene e andiamo a montare delle sonetto 5 che sono già qui e un Macintosh MA 9000. Ragazzi oggi siamo andati diretti al punto, vi faccio vedere esattamente quello che abbiamo già montato e portato qui dal nostro cliente. Intanto vi faccio vedere, questa è una sala di vita alla musica, il nostro cliente ha la fortuna di avere una zona dove può rilassarsi e godere di un bel impianto e devo dire che comunque avere una stanza con tendaggi, libreria comunque sempre molto piena aiuta sicuramente l'acustica e ha tutti quei tipi di accorgimento di cui parliamo spesso. Un tappeto pesante, delle tende, le pareti piene che fanno suonare al meglio l'impianto. Come diffusori il nostro cliente che dopo vedrete cosa aveva, delle cose ha cambiato, ha ricambiato, è virato su Sonus Faber, questa è la Sonetto 5, un diffusore a 3 vie con un doppio woofer da 18 colcone in alluminio, un medio colcone in carta da 15 cm e il tweeter che è il DAD della Sonus Faber. In questo caso la colorazione scelta è stata Walnut che è il noce che devo dire che sta molto bene con la libreria e con l'ambiente. Comodo, a parte la forma l'utile di questi diffusori, è il reflex che lo troviamo nella parte inferiore del nostro diffusore e questo ci dà pochi problemi di posizionamento del diffusore. Molto comodo, è un diffusore comunque con un bel litraggio, ha anche un bel impatto, classica, timbrica, abbastanza dolce di Sonus Faber, ma questo tweeter, come dico sempre, il DAD, tweeter a cupola, non fa rimpiangere anche un bel tweeter a nastro. Abbiamo montato un MA9000 che è un amplificatore, un integratone completissimo con l'equalizzatore a 8 bande, i V-meter, una cosa solamente statica come dico sempre, ma fanno il loro piacere, Fono MM, Fono MC, ingresso ottico, ingresso quassiale col modulo il DA1, equalizzatore qui che è anche escludibile e abbiamo insomma un po' tutto quello che ci serve in una macchina davvero interessante. Tra l'altro il nostro cliente ha fatto un bel colpo perché era l'ultimo 9000 che ci rimaneva ancora con il prezzo precedente, ora siamo passati al 9500, al 12000 che ahimè hanno dei prezzi molto importanti. Come sorgenti, qua abbiamo due sorgenti molto belle, l'SA11S1, color champagne della Marans, CD, SACD della Marans, questi sono lettori CD che adesso abbiamo l'SA12SE, sono per me strepitosi con un rapporto qualità-prezzo che è davvero incredibile. E la prima cosa che invece su cui mi è caduta l'occhio appena sono arrivato è il giradischi, questo so che piacerà a molti di voi, è il Denon DP-A100 del 2010, è stato fatto per il centenario della Denon. Ne parlavamo prima con il nostro cliente, purtroppo ahimè questo genere di giradischi così belli che fanno sangue adesso difficilmente li producono, perché o si virano su design molto particolari come ad esempio la SME o la VPI o costano delle fucilate come il giradischi della Yamaha che è bellissimo ma penso che siamo sui 10.000 euro di giradischi. Questa era quella metavia che purtroppo a parte Technics e SL12G non fanno più. Bello lo shell della Denon con la testina che è la DL-103 che è una testina MC davvero ottima. Con ovviamente abbiamo già il pre-fono interno dell'MC, non dobbiamo fare niente. Abbiamo anche una bella piastra che è la V7000 della Teac, anche questa in finitura champagne che devo dire si sposa parecchio bene con il Marantz LSE116. Prima impressione, ascolto, ragazzi è molto buona, ovviamente i prodotti abbiamo fatto il giro in furgone quindi sono ancora freddi. Vanno lasciati scaldare, vanno ascoltati e vanno ammorbiditi dopo un po' di ascolto uno insomma inizia a avere il suo giudizio ma devo dire che da primo ascolto a me sono piaciuti parecchio. Poi sapete che io sono fanci di Sonos Faber che di Macintosh. Ragazzi come avevamo detto eccoci tornati in negozio con i prodotti che abbiamo ritirato. Dopo facciamo tutto un discorso su quello che riguarda la revisione e le nostre condizioni di vendita di questi prodotti. Qui abbiamo due finali monofonici, non vi dico la fatica di tirarli giù dal terzo piano, pesano 56 kg cada uno che è un peso che chi gli piace acquistare a peso qua sicuramente fa un affare. Abbiamo 130 watt in classe A, AM Audio, è un'azienda che è in provincia di Pavia quindi completamente italiana, un bel finalone, questo ha capacità di pilotaggio pressoché infinita. Come abbiamo detto sono due finali monofonici. In abbinata abbiamo il preamplificatore, la 5 e il suo prefono, questo non si può acquistare a parte perché ha un connettore proprietario di alimentazione che va collegato al prefono, che è l'MC20. Quali sono i prezzi di questi prodotti? Per i finali, quindi i due finali monofonici siamo a 3500 euro la coppia. Prezzo di vendita qui in negozio. Considerate che il listino era sopra i 6000 euro, sono delle macchine che, non devo dirlo io, ma sono davvero strepitose. Per quanto riguarda invece il preamplificatore che vendiamo solamente in abbinata al prefono, siamo a 1150 euro. Ovviamente vi forniamo, ci mancherebbe, tutti i cavi necessari per il collegamento. Che diffusori aveva il precedente proprietario? Sono delle cose sicuramente particolari. Made in Holland, queste sono delle audio static DCM5. Pannelli elettrostatici sono particolari, ragazzi hanno qualche anno, queste vanno ascoltate, ve le possiamo anche spedire, se le conoscete già non c'è alcun tipo di problema. Visto che abbiamo gli imballi originali in legno, che possiamo lanciarli anche da un furgone che non succede niente, questi sono diffusori particolari, bisogna saperle pilotare, andarle a mettere delle macchine muscolose. Non a caso avevamo gli AM audio da 130 watt in classe A collegati, questi li vendiamo a 950 euro la coppia. Condizioni davvero ottime. Ragazzi, una cosa che abbiamo già chiarito in passato ma che spesso ci domandate è come funziona la garanzia, la revisione di questi prodotti che vendete? Beh, converrete con me che se noi dovessimo far fare la revisione a qualsiasi prodotto che abbiamo, sarebbe un costo ingestibile per noi e il prodotto non diventerebbe più appetibile alla vendita. Tutti i prodotti, perché, apro una parentesi, la revisione per quanto ci riguarda è solamente da casa madre ufficiale, quindi per me il prodotto riparato, controllato dal riparatore sotto casa non è una revisione. Le revisioni, tra l'altro, ragazzi, costano parecchio. Abbiamo inviato un Crel in assistenza in Danimarca, abbiamo speso più di 2000 euro di revisione perché avevo un problema. Detto questo, tutti i prodotti che riceviamo noi li andiamo a controllare, diamo uno sguardo interno per vedere che non siano state fatte delle cose alla rovescio o che dentro ci siano dei mattoni. Se è tutto ok, noi li andiamo a provare, li proviamo, li verifichiamo in tutte le loro funzionalità. Facciamo qualche CD, proviamo, nel caso dei pre, tutti gli ingressi, la sezione fondo, la sezione linea, per garantirvi e darvi la nostra garanzia di qualità e perfetto funzionamento, salvo diversamente indicato. Nel caso ci dovesse essere qualche problema, noi le macchine le facciamo controllare, le facciamo sistemare e ve le diamo ovviamente funzionanti. Nel caso ci dovesse essere qualcosa di irreparabile, qualche difetto estetico, noi ovviamente lo specifichiamo sempre e voi siete sempre tranquilli che avete la nostra garanzia, sapete che noi siamo i primi a metterci la faccia e a garantirvi il miglior servizio possibile. Ragazzi, io spero che anche questo montaggio e ritiro vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se anche voi avreste fatto questo genere di cambio come il proprietario del nuovo impianto o se avreste tenuto questi due blocchi monofonici pesantissimi. Iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità e mettete un bel mi piace a questo video. Ci vediamo al prossimo video.